Non è che ci tengo perché non devo pescare niente, non devo assolutamente pescare niente perché io sto nel calcio, io amo la sportività, la realtà e non amo le vendette trasversali e neanche quello che ci hanno convidato all'andata, a me personalmente, ma hanno offeso voi, non me, perché io non vado in mezzo al campo, salvate voi in mezzo al campo, quindi cercate di divertirvi, non dovete regalare a me questa rinforzata, la dovete regalare a voi perché stiamo a un passo dal traguardo, quindi questa è una vittoria importantissima perché dopo non abbiamo più altre partite importanti, questa è la più importante, questa è la partita decisiva, quindi cacciamo le palle di tutti quanti, sia che va in campo, sia che sta in parchi e dimostriamo a questa gente che cazzo è capace di fare questa squadra, questo è un mitico gruppo, ok? Questo grande mitico gruppo, bastardo che non siamo, per questa magica squadra, Ippi URA! Ippi URA! Ippi URA! Ippi URA!